. Anticipazioni Questo Nostro Amore 80, trama Terza puntata di martedì 10 aprile Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Questo Nostro Amore 80, il popolare sceneggiato prodotto da Rai Fiction e Piper Moon. . La prima stagione è andata in onda nel 2012, la seconda nel 2014 mentre quella attuale, la terza, è iniziata domenica 1 aprile 2018. Nell'edizione inedita sono stati confermati gli attori principali neri Marco Rea e Anna Valle ma cè stato anche l'ingresso di nuovi personaggi. . Ricordiamo inoltre, che la serie è composta da 12 puntate della durata di 100 minuti ciascuna. . Cosa accadrà nel terzo appuntamento che verrà trasmesso su Rai 1 martedì 10 aprile in prima serata? Nel prosieguo dell'articolo troverete le anticipazioni dell'episodio e un piccolo riassunto di quelli precedenti. . . Questo nostro amore 80, ecco dove eravamo rimasti. . Anna e Vittorio si sono persi di vista, infatti dal loro ultimo incontro sono passate all'incirca 10 anni. . La Ferrari s'ha deciso di dare una svolta alla sua vita fidanzandosi con uno psicanalista. Quest'ultimo è riuscito a farle passare la depressione che le era venuta dopo dopo il divorzio dal marito. . Addirittura Anna e il medico hanno deciso di mollare tutto e cambiare paese. . Nel frattempo Vittorio ha rifiutato di trasferirsi in Gran Bretagna ed rimasto a vivere nella sua città natale, Torino. . In questo modo, l'uomo ancora innamorato della sua ex, ha tentato d'approcciare nuovamente con quest'ultima. . Riuscirà nel suo intento? Spoiler del terzo appuntamento dello sceneggiato di Rai 1. . Nel terzo appuntamento i protagonisti dello sceneggiato Rai saranno al centro della trama. . Anna Ferraris dopo aver ricevuto una delusione al lavoro, accetterà di lasciare l'Italia per trasferirsi negli Stati Uniti con Ettore. . Naturalmente questa sua inaspettata decisione causerà un grosso dispiacere a Vittorio Costa. . A quel punto, l'obiettivo di quest'ultimo di conquistarla, andrà in fumo. . Nel frattempo Bernardo Strano e Benedetta Ferraris Costa avranno dei momenti di tensione. Per quale motivo?. . 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 Grazie a tutti.